Però l'abbiamo rubata, chiedendo permesso, l'abbiamo rubata a Elifo Torino e io l'incontro con il gemello, se vogliamo, con il papà di Origami che è Leano, che è un settimanale francese, che vende in media 25.000 copie ogni settimana e che ha lo stesso formato e l'idea di essere monotematico, è fatto dal direttore del fotografico, poi aspetteremo, che viene dalla storia di De Monde. Io l'ho incontrato alcuna volta all'alloporto di Parigi, di passato all'alloporto di Parigi. Quando l'ho preso in mano, era da tempo che pensavo che ci sarebbe avuto, che bisognava rispondere ai discorsi che c'erano, provando a ripartire invece da qualcosa del pubblico. E questo non significa negare la contemporaneità e la caratteristica. come il giornale, la stampa, la paguata, da poco lavoro con Facebook, stiamo lavorando con Google, stiamo lavorando con Facebook, pensiamo che il digitale sia il nostro presente, il nostro studio. Però pensiamo che insieme si possono stare anche nei momenti di riflessione più profonda, più lenta. E quando ho portato questo prodotto, le alle relazioni, ne ho parlato con Cesare, Cesare si è innamorato e ha iniziato a studiare allora. Diciamo così, abbiamo fatto una cosa, se volete vi interessa. Volevamo essere, siamo stati i primi a dire, non è vero, la cartellina, ci ripartiamo da lì. E' come quelli che vendono i dischi di vinile, che non si sono scoraggiati e hanno visto che dopo aver toccato il fondo, oggi le cose sono tornate a salire. E quindi abbiamo fatto qualche cosa che, se volete, è fuori tempo. Ma io penso che questo suo essere, dopo il tempo, sia molto appassionato.